Let's go baby e benvenuti a questo nuovo video Allora una piccola intro per spiegare questo video Sto giocando con una risoluzione in questo video a 4 terzi Cos'è una risoluzione a 4 terzi? E' praticamente una risoluzione strecciata Cioè allungata, allargata, deformata Non so come la volete chiamare A cosa serve una risoluzione del genere? La visuale come vedete sembra più schiacciata Cosa vuol dire? Che riducete l'asse di visione X Per aumentare quello Y In un gioco come Fortnite è molto utile avere un asse Y maggiore Quindi una field of view, un campo visivo più ampio sull'asse Y Perché il gioco si sviluppa in verticale Questo era solamente un test Come vedete ho giocato molto ma molto bene Dà una grandissima mano anche perché vedete le figure degli omini E comunque delle teste molto più grandi Comunque vi lascio con la visione del video Non sto più utilizzando questa risoluzione ora Ne sto utilizzando un'altra che è un 16 decimi in streaming Ma la potrete vedere oggi Non vi preoccupate Io spero che vi piace comunque questo video Che vi piacciono anche tutte le schillate che ho fatto Specialmente che abbiate capito il motivo di questa grafica Un pochino strana Ci si becca in streaming Let's go baby Alfa Ress 1150 per il 1080 Marco Giuda Quella è quella di Chapp Che c'è i personaggi che sono tipo dei nani Scusa ma ho capito se ti dà il 4 terzi Ti dà più FOV verticale Che quindi è meglio dato che il gioco si sviluppa in verticalità a Fortnite Oh 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 C'è il problema quello che ha fatto no è volato giù ha driftato giù no Grazie. Sì, 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 sì. Sì Wow Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Grazie mille Martina per l'host Grazie mille match appreciated Se gioca di gristo ragazzi Missato Grazie mille Madonna costa resta ragà fai certe cose che te senti in alieno Grazie mille Mi pare buono 10 kill la tilt Se è stata messa la sub ball I moderatori la mettono quando la gente spam E fa troppo casino I saltato My brudas My bruda Mi pare buono Mi pare buono Mi pare buono No non me lo prende E dai Mi pare buono 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 Grazie. Un po' si bru per le 20 bombe, vabbè. Un nuovo gatto panso. Un po' si bru per le 20 bombe, vabbè. Un po' si bru per le 20 bombe. Un po' si bru per le 20 bombe, vabbè. Un po' si bru per le 20 bombe, vabbè. Un po' si bru per le 20 bombe, vabbè. Un po' si bru per le 20 bombe, vabbè. Un po' si bru. Un po' si bru.